Buongiorno a tutti, eccoci qui! Buon sabato 6 maggio! Non si capisce più nulla, che tensione, che pressione! Ci si gioca tutto veramente in pochissimi giorni. Oggi la sfida decisiva con la Roma, ore 18, l'abbiamo detto, come una finale da vincere, da sfruttare, una maggiore profondità di rosa, alternative che non si hanno anche se l'infortunio di D'Ambrosio crea un'emergenza non da poco nel settore difensivo, perché oltre a Skriniar, che abbiamo detto, no, non si sarebbe più visto, oltre a Gosens, che speriamo recuperi per settimana prossima, acciaccato D'Ambrosio, che era uscito per questo a Verona, prima della fine, e mancanza di alternative quasi a zero, c'è solo De Vrij, che può dare una mano, diciamo così, con Darmian adattato, come sottolinea il Teccaldo più famoso di YouTube, e adesso le forze, le alternative, il turnover, l'abbiamo visto nell'ultima settimana, quando, nelle ultime due settimane, quando Inzaghi si è permesso di far riposare otto, nove giocatori, di alternare non solo la Lula e gli attaccanti, Lula che continua a essere, diciamo, divisa da Inzaghi, ma anche l'alternanza l'abbiamo anche in cabina di regia, dove c'è, per fortuna, un Brozovic ritrovato, proprio nel momento più importante della stagione, sembrava proprio con la testa da un'altra parte, è tornato, e lo dimostrano le scelte di Inzaghi, tra poco ne parliamo, anche difficile farne a meno di un Brozovic in questa condizione, soprattutto poi, mercoledì contro il Milan, ma non bisogna assolutamente pensare alla gara di mercoledì, se non da stasera, perché a Roma l'Inter ha una grandissima possibilità, con gli scontri che ci sono, vincendo a Roma, non dico che ipotechi, ma metti un piede dentro alla prossima Champions, e questo farebbe tutta la differenza del mondo, perché se pensate che solo a 12 minuti dalla fine della gara con la Lazio e risettimo fuori da tutto, poi Lautaro ha cambiato e ribaltato il cielo sopra l'Inter. A proposito, usando questa poetica, andate tutti a vedervi, se non l'avete già vista, la live, penso lo speciale migliore che abbiamo mai fatto, di una qualità estrema con Francesco Repice, che solo a sentirlo parlare ci staresti ore, con una passione che viene fuori proprio da YouTube, trasuda come quando fa le radio cronache in Rai, in Rai Radio, in Radio Rai, quello che fa la differenza è la passione per il football, per il pallone, per il calcio, e permette, come gli ho fatto notare, di rimanere a fare grande concorrenza a tutti, nonostante la radio sia un mezzo in difficoltà, con tutti i social e quant'altro, con tutti i video, uno più virale dell'altro, ma la passione, la poetica, quando vi racconta di come è nata la sua intro e di come probabilmente farà la intro mercoledì per il derby, l'Euroderby, cioè io mi sono emozionato, penso anche voi, assolutamente da mettere un bel like e da vedere e rivedere, da mandare tra i video più visti in assoluto, ricordando i tempi del triplete, ricordando la vittoria dell'europeo, ricordando anche i tempi lontani col Paron Rocco, qualcuno non sa neanche chi sia, ed è Legna Herrera il suo cappottone, quello che sarà forse parte della sua intro nella sfida di mercoledì, ma stasera l'Inter gioca contro lo specialone, contro Murigno, contro una Roma che sta facendo, secondo me, anche più di quello che si pensava potesse fare, che però si trova in grande emergenza, senza parecchi giocatori, Smolling out, Esharavi out, Selic squalificato, Kumbul out, e Dybala dovrebbe partire dalla panchina, però una Roma che è riuscita a mettere in difficoltà chiunque, che ha una difesa forte, anche se Cristante dovrà giocare nei tre dietro, proprio per mancanza di soluzioni, e allora l'Inter deve fare, deve sfruttare la possibilità di alternare, anche se l'abbiamo detto, regalare Lautaro, un Lautaro così in forma, che ha segnato un gol all'Empoli, due gol alla Lazio, subentrando nell'ultima mezz'ora, due gol al Verona, dove non ho ancora capito, è rimasto in campo fino al 93esimo, va bene che non inizi titolare, ma non rischiare neanche che gli possa venire un raffreddore, è troppo importante, e ci sono partite una più tesa dell'altra, stasera la Roma, una finale, l'abbiamo detto, mercoledì l'andata con il Milan, poi c'è un sassuolo di mezzo, il ritorno, poi il Napoli, la finale di Coppa Italia, l'Atalanta, il Torino, e speriamo che ci sia anche qualcos'altro, proprio per questo, cosa non può mancare, occhiale scaramantico, old school, figurine del nipotino, cominciando da un Big Rom che vuole conquistarsi anche la permanenza a Milano, e la Champions è fondamentale per un altro accordo con il Chelsea eventuale, e anche la sua disponibilità, un ingaggio ridotto rispetto a quello attuale, Andanovic che ha fatto molto bene, Bastoni che torna dal primo minuto, così come Barella, perché Inzaghi comunque è riuscito a far riposare Onana, Bastoni, Barella, in parte Darmian, Lukaku, e anche quel Correa da cui ci si aspetta uno squillo, una giocata, un gol, qualcosa di importante per zittire anche tutte le critiche che giustamente anche noi abbiamo fatto, ma che può rivelarsi con la sua qualità un giocatore in grado di dare quel qualcosa che non è mai riuscito a dare in quest'ultimo mese di fuoco rovente. Abbiamo detto continua l'alternanza in attacco, continua la Lula spaccata, Lukaku Correa, la decisione di Inzaghi, quindi Geko Lautaro contro il Milan, a meno che non arrivi un uragano dal nome Big Rom, a far cambiare i piani di Inzaghi, ma l'abbiamo visto, non sono bastati neanche i due gol e l'assist contro l'Empoli per sovvertire le idee e le gerarchie che sembrano già fatte da tempo in casa nell'Azzurra, però fino a questo momento ha ragione Inzaghi, ha ragione Inzaghi che ha recuperato tutti anche prima Lukaku, poi è tornato al gol Lautaro, si è ripreso parzialmente anche Correa con quel gol contro il Benfica e poi Geko dopo quattro mesi di astinenza ha ritrovato la via della rete. Adesso può scegliere come ha detto ieri a InterTV in una silenzio conferenza che continua anche questo che non comprendiamo però se le cose continuano ad andare così ha ragione lui anzi da quando scusate bevo un po' di te caldo da quando tutti hanno iniziato a dire e a scrivere che non ha praticamente speranze di restare ha iniziato a vincere tutte le partite ad arrivare in finale di Coppa Italia in semifinali di Champions e a tornare al quarto posto un vantaggio che dopo aver sprecato l'impossibile adesso non si può buttare via lo diceva ieri comunque Repice è un allenatore che ha dimostrato nonostante i detrattori che continuano a lanciare il fango che merita di essere dov'è ha fatto come tutti degli errori però ha subito anche un trattamento che nessuno ha avuto nonostante ci sia chi ha fatto peggio chi è andato subito fuori dalla Champions chi è andato fuori dalla Coppa Italia ha perso il derby di Supercoppa ed è anche dietro in campionato vediamo che succede in questi tre giorni pressione altissima tensione a livello incredibile formazione torna un'ana in porta poi Darmian a Cerbi in vantaggio su De Vraie e Bastoni ancora una difesa tutta italiana Dunfrise Di Marco sugli esterni in mezzo al campo dovrebbe riposare Mkhitaryan che è un po' strano perché non ci rinuncia mai Inzaghi ma come abbiamo detto Brozovic è troppo in condizione per lasciarlo fuori è troppo determinante quindi guida lui all'Olimpico con Ciala e Barella e poi davanti Lukaku e Correa domanda e adesso quindi per il centrocampo vuol dire che che Brozovic non gioca il derby questo Brozovic è un altro degli interrogativi che cercheremo di scoprire ma è chiaro che fa molto molto riflettere questa situazione intanto ringrazio anche oltre a tutti voi e tutta la solidarietà che mi avete mostrato in questi giorni ringrazio ancora anche Diego Ligorio che ci ha mandato la sua solidarietà vedete i canali quelli veri quelli genuini non farlocchi si vedono da queste cose pensate che non ci sta adesso l'angolo del cialtrone ma per forza a grande richiesta nel metaverso ma poi si squalificano da soli perché addirittura sono arrivati a a dire che il messaggio che avete letto tutti che abbiamo messo in primo piano al videopagelle della gara col Verona quindi di due giorni fa ma come si può leggere benissimo e questi cialtroni che vorrebbero anche leggere i giornali ma che non riescono manco a leggere il topolino di che cosa volete parlare questi ignoranti addirittura hanno avuto l'ardire di dire che fosse un messaggio vecchio che io ho ritirato fuori per fare compassione non è assolutamente un messaggio vecchio lo vedete benissimo l'avete letto in primo piano si è preso anche otto like che forse è la cosa più agghiacciante che ci possa essere ma speriamo che siano tutti gli account che abbiamo già bloccato o che quel signore odiatore seriale che presto avrà notizie della polizia postale ci faremo grosse risate continua a fare ma pensate nella loro narrazione farlocca cosa sono in grado di inventarsi e dimostrano sempre di più quanto siano fasulli in ogni in ogni cosa e non hanno neanche i cosiddetti le palle per dissociarsi da questa da questo schifo poi fa molto ridere che parlano di solidarietà alle donne leggiamo il messaggio di una certa Alessia che chiedeva a nome delle donne di smettere di dire certe frasi le donne non si trovano non si danno come dici tu di continuo offendi la donna in ogni tuo video quando cade pure il microfono quando invitano a trovarmi delle donnine a volte a pagamento a volte a volte no e dimostrano la loro altro che solidarietà alle donne la loro mancanza di rispetto totale verso la donna che non si compra non si paga e non si non si dà come giustamente fa notare questa utente Alessia che scrive e chiede rispetto ma cosa volete che sia il rispetto delle donne e sapete come rispondiamo noi come rispondiamo col nostro nuovo amuleto oltre a Joao Mario agli occhiali scaramantici l'abbiamo messo negli shorts il video della nonnina Giuseppina che sono stati in grado anche di attaccare ma come mai invece non ci raccontate dove è finito il video che avevate pubblicato andando a rubacchiare quello che avevamo quello che abbiamo fatto noi la nostra intervista alla nonnina non vi eravate accorti che era che era l'intervista a noi e vi è stato rimosso è arrivato lo strike come mai non parlate di come vi siete impossessati di un video che non vi appartiene sapete che sono cose illegali lo sapete ve lo ve lo ve lo ricordiamo e allora rispondiamo con la nonnina saluta a tutti intervista e volegni domani non facci scherzi perché dobbiamo vincere come ci hai fatto vincere la tripletta se tu ci fai vincere domani io ti faccio l'orecchiette che li faccio io l'orecchiette ce le fa la nonnina e mandaci le orecchiette nonnina giuseppina grandissima grandissima occhio a riprendere questo video perché poi arriva un altro strike forse è meglio che utilizzate cose che che fate voi ma capiamo anche da questo che ormai siete arrantolo arrantolo non sapete più che cosa dire 7 di maggio 6 maggio non sapete neanche più cosa raccontare se non fare dissing e vomitare odio sui social ma come ha detto il buon sergione bauscia hashtag via i finti interisti via i finti interisti parole di Antonello che qualcuno ci ha visto qualcosa di incredibile ma mi sembra che siano sempre le solite stesse cose che che leggiamo e che vediamo sul futuro Antonello ha detto gli interessamenti possono esserci ma noi come manager siamo l'oggetto dell'interessamento non il soggetto è chiaro che un club come l'Inter attiri attenzione soprattutto nel momento in cui c'è l'apertura nel volere partner finanziari con cui collaborare per poter investire nel club e portarlo a livelli superiori ora dobbiamo pensare a lavorare bene per i prossimi appuntamenti poi sarà il compito di Suning decidere il destino del club come abbiamo sempre detto e siamo al 6 di maggio com'era la canzoncina com'era la filastrocca no ma febbraio massimo marzo no poi massimo aprile poi massimo maggio ma non si andrà oltre e siamo già oltre spiazze veramente spiazze veramente tanto a Roma continuano le voci sull'imprenditore Follieri che ha chiarito però in più di un'occasione che sta provando a prendere la Roma da solo e non con l'aiuto di nessun tipo di cordata saudita per quanto riguarda lo stadio Antonello ha di nuovo sottolineato che il piano rimane quello cattedrale San Siro quindi da abbattere e ricostruire un nuovo stadio in zona Meazza di fronte però come aveva già detto e avevamo spiegato l'Inter è pronta se non si riuscisse a fare il piano A con un piano B alternativo e sapete dove l'abbiamo fatto lo speciale siamo andati proprio sul terreno al confine tra Rozzano e Assagono che potrebbe essere un piano B ma come ha detto Antonello da sempre un piano B non il piano A e questo poi dipenderà da tutto quello che succede spazio un po' ai vostri messaggi ai vostri messaggi che arrivano come sempre iscrivetevi al canale che siamo sempre più vicini al nostro obiettivo e dobbiamo arrivarci entro mercoledì ai 40.000 K quindi chiamate chiunque abbia un account iscrivete dobbiamo arrivare prima del derby di Champions ai 40.000 follower ne mancano poco meno circa 230 forza chiamate gli amici Roberto Scaricacciotto gli dice dal 5 maggio 2010 però è iniziata la nostra cavalcata per vincere tutto perché io avevo ricordato una data in fausta no? una sofferenza totale intanto saluto il Corra e tutta la carrozzeria Inter che aveva vissuto con me quella giornata perché vi racconto quel 5 maggio per Inter TV io ero in diretta dal centro di Milano pronto per la grande festa e poi venne giù un diluvio universale guardammo la partita in un pub in via Torino e quella sofferenza di tutto il popolo nerazzurro e mi ricordo ancora che poi dal Duomo tornai a casa a piedi prendendomi gli insulti di tutti i tifosi delle altre squadre una sofferenza che poi è stata cancellata dai trofei ma non possiamo far finta che non ci sia stata un po' come a Bologna l'anno scorso bastava vincere una partita per avere uno scudetto in più e non ci siamo riusciti però è chiaro che poi è arrivato il triplete è arrivato il 2010 è arrivato Mourinho che oggi sarà avversario vedete che sliding doors che incroci col destino Cristian Garacci fa i complimenti al Napoli a Spalletti per la vittoria adesso ci sono anche le vedove di Spalletti forse che dimenticano la sua ultima partita in casa con l'Empoli con una qualificazione Champions presa per il rotto della cuffia sfiorando proprio anche la sconfitta in casa a San Siro una delle partite peggiori in assoluto Giuseppe grande barza sempre attivo sul pezzo da Meridionale quale sono non posso che fare complimenti a Napoli allo Spallettone e questo è fuori di dubbio Fabrizio questo finale di stagione potrebbe vederci arrivare fino alle stelle come potrebbe vederci anche sprofondare nel baratro su questo non sono d'accordo Fabrizio nel baratro magari ci finisce chi chi non prende niente chi non vince nulla sei arrivato dopo 13 anni a una semifinale di Champions nel baratro non ci sarai mai Mario Aurelio chiede sull'alternanza davanti ma è possibile che questa strategia del mister sia anche per non dare punti di riferimento all'avversario può anche essere così però l'abbiamo visto Lukaku anche come si trasforma con l'ingresso di Lautaro Martinez e che difficoltà invece ha quando c'è Correa che non non c'è mai in aria non gli permette di creare e costruire per i compagni è molto difficile Massimo ci fa i complimenti per la qualità delle informazioni che che diamo quotidianamente per il mercato lui riporterebbe a casa Pirola costo 7-8 milioni di controriscatto un po' di più però ha fatto bene molto a Salerno sta crescendo tantissimo anche lui però il controriscatto è fissato a 13 Massimo a me il 5 maggio ricorda la Coppa Italia vinta proprio contro la Roma con cosa del grande del grande Diego Milito nell'anno del triplete l'abbiamo detto sì però anche la sconfitta con la Lazio sempre all'Olimpico dove si torna oggi vedete che incroci Mario buon pomeriggio Marco sono in ritardo per problemi familiari comunque trovo il tempo per esprimere la mia solidarietà per quanto hai espresso nel video di ieri riguardo gli energumeni da tastiera dove regnano cattiveria invidia e odio mi auguro veramente che debbano risarcire in modo pesante i danni morali non conoscendone il significato si renderanno conto poi tu devi continuare imperterrito il tuo curriculum e garanzia assoluta grazie Mario a te come a tutti voi perché l'abbiamo detto anche ieri con Repice che è uno di quelli che più mi è stato vicino a volte magari uno si fa buttare giù si sente solo ma noi siamo molto di più di tutti quei cialtroni di quegli odiatori seriali siamo molti molti di più non c'è proprio paragone e sentirvi vicino fa tutta la differenza del mondo come scrive Giovanni Soresinetti la nostra famiglia starà sempre al tuo fianco uniti più che mai contro tutti i cialtroni e gli odiatori seriali Massimiliano va a riprendere le parole di Mazzola Sandro il suo racconto che come rifiutò per due volte la Juventus da bandiera dell'Inter e da figlio di Valentino capitano del Toro lo sconosciuto se battiamo la Roma facendo un po' di conti visti gli scontri incrociati qualsiasi risultato delle pretendenti alla prossima Champions per noi andrebbe bene perché le altre non possono vincere contemporaneamente Ernesto brutta data brutti ricordi però dopo quel 5 maggio siamo tornati molto bene assolutamente d'accordo spero che una parte del risarcimento dice Mauro possa andare alla ricerca per combattere il cancro dopotutto dall'età menascono i fiori e promesso anche se non ci sarà nessun risarcimento faremo il nostro come facciamo sempre per aiutare chi è in difficoltà buongiorno Marco sinceramente farei girare i tre attaccanti Geko Lautaro Luca con un certo Correa l'abbiamo detto ma poi anche dall'inizio è molto rischiosa questa scelta che speriamo paghi Michele invece sul fatto che Nzaghi non parla più in conferenza dice capisco il tuo disappunto ma ormai si capisce che Nzaghi non vuole più offrire il fianco a domande che possano metterlo mediaticamente in difficoltà ho capito ma puoi anche rispondere per le rime e dimostrare che non sei in difficoltà Mario il vento è girato il prossimo anno staremo lì a cucirci sulle maglie alla seconda stella con la Roma nessun dubbio che si vince invece stiamo piedi per terra occhiali scaramantici e bisogna giocare come una finale come quando l'Inter si sente spalle al muro con un unico risultato possibile anche il pareggio potrebbe andare bene ma vincendo con Milan Lazio e Atalanta Juve puoi veramente mettere una pietra fondamentale sulla qualificazione che sembrava quasi impossibile solo una settimana fa Giovanni sottolinea che il 5 maggio è stato già esorcizzato Luigi Fantauzzo fa i complimenti al Napoli Alessandro visto un Inter in stato di Grazia Brozovic Ciala Miki Barella sono giocatori maturi con esperienza che hanno vinto ci divertiremo Anthony uniti tutti ma soprattutto con te Marco Paolone il 5 maggio anche se resta una nota dolente ormai è passato andiamo verso il futuro prima la Roma e poi il derby e adesso un po' di rassegna stampa mi raccomando like al video like alla live di ieri con Francesco Repice iscrivetevi al canale iscrivetevi al gruppo Telegram Marco Barzaghi Inter scaricate l'app nello store breve rassegna stampa perché poi si gioca tra poco non ci sono grandi notizie la formazione quella che abbiamo detto diamo uno sguardo veloce alla gazzetta presentazione del giro poi qui si fa la Champions è il titolo della pagina calcistica uno simenda blindare per il Napoli Milan Lazio Roma Inter un sabato capitale e poi la partita di oggi guardiamo anche la formazione della Roma in cui Di Bala dovrebbe subentrare dalla panchina attacco alla Champions Inzaghi partenza forte Inter extra largi il piano di Inzaghi tra Roma e derby la formazione della Roma con Rui Patricio Mancini Cristante Ibanez Zaleski Matic Boves Spinazzola Solbac e Pellegrini alle spalle di Abram quella dell'Inter e quella che vi abbiamo detto con Lukaku e Correa e poi Mourinho in emergenza con Cristante in difesa vedremo se ci riuscirà questo doppio incrocio Champions decisivo e fondamentale per il futuro che arriva adesso sotto pressione altissima tensione ma che bello respirare quest'aria